Iscriviti al canale! Al momento sei in positivo di 40 punti, non va bene dopo 6 ore di stream, ora rimedi e perdi. Va bene patata. Chiamolino, però potevo. Perché ci stavo qua in realtà a prendere piramatta? Non era così sbagliato, eh? Né Udora né piramatta. Sono terribili, lo so. Va dietro, è andato in. Eh, va dietro, piramatta non me la ricordo. E' un tier 3, è uguale. Come faccio a sapere che pezzo c'ha? Ha perso le elementari, ma lui l'ha baffato sicuramente, ha fatto goccia, banana. Quindi potrebbe avere tutto. Quello potrebbe fare la differenza. Sono tutti lì, ti aveva andato in. Qui, vatti. Mi pensavo di aver saputo bene. Penso di prendere se l'elemental qui, non ha senso trippare adesso. E Hat King è uno. E' il signore dei piccioni e taverna due. Riesco a baffare tutto lo stesso. Posso dire che il cambio del muilock taverna 1 ha cambiato il meta più di quanto l'abbiano fatto i baddi quasi. Mi è piaciuto un sacco. E' vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E ma perché, come al solito, i cambiamenti ai minion cambiano tanto di più il meta rispetto ai baddi. Cioè, rispetto ai cambi degli eroi. Ora i baddi sono stati un cambiamento importante. Però, in generale, l'inserimento di un eroe, il nerf a qualche eroe, cambia di poco il meta. Lo cambia molto di più il cambiare i minion. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. E' vero, è 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 vero. E' vero, è 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 vero, Sì, è proprio quello che dobbiamo fare Le triple Guarda il bel trade che ho fatto Addirittura Attivo max il T4, non mi è mai capitato Mi sa Di prendere il buddy così presto Non ti avrei andato a 3 così presto Piano Non ci sai fare Facendo danni Kiko Vincendo i fight Io ho vinto tutti i fight E lui era già grossissimo fin da turno 2 Hai buone possibilità di vincere Anche grazie a Mufra Quindi ho praticamente sempre K Come vedete Prendo lo scam E dite Eh però prima 20% Non accade Vincere mi ha dato buddy Quello è mio Però anche il pareggio andava bene Che cosa vuoi che mi capiti qui di buono Non è che ci sia moltissimo Va bene Potete riparare il buddy di testo Anche Madonna Perciò Che cosa vuole Che cosa vuole Che cosa vuole Prendo La Questa Mi Ma Tutto In prima posizione E che cazzo ne? E che cazzo ne? Questo Sì che poi adesso non è che Felicissima poi lei Sì, sì Sì che cazzo ne? Ogni tuo desiderio è una mia decisione Sì 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 Figo Stai a mangiare il mio malgadone per prendere il malgadone Oppure lui lo togliplo e stica C'è come faccio i malgadone Sì Sì Ogni tuo desiderio è una mia decisione Sì 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 Stai davvero creando una grande armata Sì Chissà quale sempre ti svederebbe State sfidando la sorte Restrizioni di sicurezza disattivate Vediamo se riesce a stare in testa E i bohen non credo che mi serva particolarmente Ma non credo Io scalo con tutti i margadoni Lui adesso mi da due di questi Ma non ci sai fare Capite quante robertozze facciamo Non potete capire il numero di robertozze che facciamo Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro per il disturbo State sfidando la sorte Ho messato Ho messato? Restrizioni di sicurezza disattivate Attivazione meccanismi di perditura Mi cadroni? Neanche tanti Mi sento prima Restrizioni di sicurezza disattivate Attivazione meccanismi di perdita Anche io avrei scelto meglio Ti stanno puntando tutti Ti stanno puntando tutti Fa attenzione No vanno per che non vive questo No vanno per che non vive questo Uh, chiudo sull'alte, ok Ok, o meno che adesso Ho 9 carte, vabbè Ah, me li ha già dati i badi, ok Ok, me ne avrebbe dati di più, vero? Mi toglie un po' di merda Anche io avrei scelto quello Tutti i tigli li ho buttato via Tutti i tigli li ho buttato via Perchè che sono nativa in shield? State sfidando la sorte Ti stanno puntando tutti Non riesco a trovare altri margadoni Che fai? Siamo finiti Che noia Almeno non vi trovano neanche gli altri Ancora toghi, badi toghi la figa Ehi li ha muto Io provo a vedere ma Ecco la muta Guardiamo a spegnere Non mi pare Goldo questo per Così ho dato tutto State sfidando la sorte State sfidando la sorte E' l'ultimo avvertimento E' l'ultimo avvertimento Io lo dico sempre Fai le cose in grande Non farle affatto Mi piace il tuo modo di pensare Esattamente ciò che stavi cercando Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro per il disturbo Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Non ce ne ho più Non ce ne ho più Non ce ne ho Ehi 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 Ce l'ha Ce l'ha Ce ne ho due Ce ne ho due Scandaloso Mi voglio io Mi voglio io Mi ve molto forte Quanto io Sto toglier questo No vabbè Non ce l'ho arrivato Ho sbagliato Ce l'ho da peschi No vitti Bella scelta Molto tattica Meglio soldare una recluta Finché puoi farlo Cazzo ma ci sono i mech Vediamo se riesce a stare In testa Alla classifica Non ce ne ho spisco Sena E' freddo la Sena Per dei Tider Beauty Infatti E' freddo la schifo Ho fatto un parentio Non ce l'ho tenuto Non ce l'ho tenuto Non ce l'ha tenuto Un creepo Non sapevo Ho delle reclute fresche, fresche per te Ah vabbè, che, 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 che è sto scam Un servitore in meno, una moneta d'oro in più Assolda pure una di queste reclute Meglio assoldare una reclutante che puoi farlo Restrizioni di sicurezza disattivate Attivazione meccanismi di mietitura Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto State sfidando la sorte Vediamo se riesce a stare in testa alla classifica Tutto è bene qui, capisci? È stata una mettita sobria Questa finale Cioè, trovo scandaloso che io non abbia fatto Tutti amalgadoni Tredici triple Basteranno E quelle di sfidettatore non so se le conta Prendere il buddy di test dorato non è forte È stato abbastanza forte prendere il buddy di test dorato Va detto Va detto Questa è una di queste reclute